una terra è morto quello la che stava lì ok non lo vedo o aspetta forse c'è qualcuno sotto di me ok è ma sento troppi passi ragazzi è sceso qui da me sceso qui da me con i cazzotti vengo guarda ma cazzo è un burdello il genere ragazzi gente dentro da voi no vabbè in momento no però sentiamo dei passi però no puoi venire beh ostile in discesa nell'area occhio in alto dove andrei sopra ottimo lavoro a piano terra stanno tutti negli angolini attenzione è salito è salito è salito è salito oh dov'è qua morto morto c'è un altro che arriva eccolo no 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 da dove da dove cazzo mi hai sparato ostile in discesa nell'area occhio in alto questi devono salire ragazzi cazzo mi hai sparato non è che faccia stanno questi è un gatto ma non mi abbiamo sovrato a questo buca 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 va buca no tu spaga tu spaga cazzo di movimento buona zona scura e infissuata c'è un po' di entrare alzano vado i copi alzano bersaglio taglia contrassegnato uccidetelo stanno avveni stanno avveni c'è gente che sta arrivando mi dà la caccia occhi aperti oh aglio c'è smesso due laggi imbaltando eh lo so ma quanti laggi ci stanno? eh so quattro c'è gente che arriva eh no andiamo allo shop poi andiamo alla cassa di immuni vieni 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 qua 24 metri 24 metri davanti a noi ragazzi serve una mano mettiamoci laggiù io questa gente qua non capisco dovevo eh ma io eh dovevi? sto dicendo cinque metri qua sta luna che andrà qua in mezzo che schifo ritornimenti indicati ritornimenti indicati dobbiamo andare proprio da loro eh no no salvi prezzi delle stazioni di acquisto rinocati io non li vedo neanche non li vedo non li vedo mi vedo uno a terra uno a terra uno a terra uno a terra l'uomo lo ho fatto la pistola l'uomo lo l'ha fatto ti copro luigi rianimanda Andrea faccio copertura dove stanno dove stanno ha visto no non ci sono altro ma ci sono altro ma ci sono l'altro ma ci sono l'altro che ce l'avevo di fianco è solo che io sono morto ho dieci secondi resiste 10 per riprendere le mie armi ce l'hai sotto andrei grande andrea venga a riprendere le armi mi fate copertura sono qua dentro ma dai t'ho sparato per primo porca miseria mi servono mi servono le piastre attenzione mi devo coprire mi devo piastrare no mi devo riprendere le mie armi che stavano qua che stanno qua no io che si è preso eccole dove stanno ucciso 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 ragazzi sta scendendo uno è qua dietro vado qui aiuto lo abbi fatto fatto o c'è una cade no ceo è una cadatura c'e' uno alla taglia c'è uno alla taglia c'è una c'è una cazzo una cadường io ma non lo vedo ora si esce anche c嘛 Ok, sta cambiato in garage, attenzio, mi ha scenduto qua, sta cadendo, sta cadendo Ah, ce n'è uno nel garage Eh, scusa Ander, non sono arrivato in tempo No, 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 no No, no, no No, no Dove stanno, dove stanno Io non li vedo Uno sta vicino alla macchina Uno chiedono Ragazzo, non hai presto in la macchina? Devo stare in garage Oh, vabbè, a sette con lui Del garage, del garage Sumendo Ah, è le pistole Ragazzo, io devo stare No, 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 no Mi tiro da trama Situa Amor Aspettare Garazzo, ici